L'altro giorno c'è stata una riunione alla quale ha partecipato anche Teramo Nostra e si è parlato un po' in generale dei lavori e si è parlato soprattutto dei reperti. Come ci ricordiamo avevamo stabilito che alla fine di dicembre i reperti sarebbero stati portati via. È stato fatto lo studio, è arrivato in maniera ufficiosa e poi si era rimesso ufficialmente lo studio che una parte di questi reperti sono di pertinenza del teatro romano, quindi una buona parte direi. E quindi questi reperti verranno ricollocati all'interno del teatro romano in maniera ordinata e poi si vedrà se il progettista li terrà opportuno o meno riutilizzarli in quella che sarà la seconda fase, cioè il recupero funzionale. La parte invece che non è di competenza verranno portati presso l'area archeologica della Kona perché comunque sono reperti archeologici. Questo ci permetterà di riaprire via Paris totalmente al traffico, è un'esigenza, insomma ci viene chiesta oramai da diverso tempo anche dai commercianti di quella zona. L'impegno era stato preso nel sottoscrivere il cronoprogramma e quindi andiamo avanti. Dall'altra parte l'assessore Agostinelli ha preparato il bando insieme all'architetto Mariotti. Il bando è stato sottoposto all'attenzione di Magani che ha condiviso la bontà del bando per cui il bando verrà pubblicato entro fine mese e quindi si andrà anche a quello che è il progetto definitivo esecutivo che prevede, lo ripeto ancora una volta perché non ci siano dubbi e incertezze su questo, l'abbattimento di Palazzo Salvoni e Palazzo Adamoli. Sono molto soddisfatto di quello che è accaduto a Roma, cioè la firma del Ministro che ha sottoscritto l'importanza di questo progetto anche pubblicamente e questo mi fa molto piacere perché ha avuto l'opportunità di spiegare anche al Ministro, al Ministro Ornaghi, il progetto. Quindi per soddisfazione andiamo avanti con forza e determinazione per un progetto che è un progetto strategico della nostra città.